I personaggi che interpreti, pensi ti assomiglino? Beh, Demetrio è simile a tratti, un po', cioè, un po', mi ricorda come ero qualche anno fa, soprattutto con le ragazze, che ero un po', un po' birbante, diciamo, le trattavo un po' malino, poi ce ne avevo più di una, per cui pigliavo una, mollavo una, sono cambiato. Mentre invece adesso mi sento più un leone dietro al muro, che sono gli altri due personaggi che faccio dopo. Qual è la battuta del tuo personaggio che preferisci e perché? La battuta del mio personaggio, beh, parlo di Demetrio, che infatuato di Elena dopo un incantesimo dice il tuo sguardo il cristallo è fango al confronto. Secondo me è una bella frase, dovrebbe fare effetto, la userò, poi vi dirò se ha fatto effetto. Fino ad oggi qual è il sogno che hai realizzato e quale ancora no? Il sogno che ho realizzato nella vita è di fare l'attore e quello che ancora no è di fare l'attore a Hollywood. Se avessi a disposizione il fiore di Cupido, chi faresti innamorare di chi? Farei innamorare Berlusconi della Merkel. Avevi mai recitato Shakespeare prima d'ora e ti sei sentito a tuo agio recitandolo? No, è la prima volta che lo faccio e mi sento, non dico, mi, sto cercando di mettermi a mio agio perché comunque Shakespeare, insomma, è Shakespeare, mica, è il Gennarino farandolo in su. Perché il pubblico dovrebbe venire a vedere lo spettacolo? Bah, perché è uno spettacolo frizzantissimo, ci si diverte tantissimo e la gente esce dal teatro dicendo bene bene, serata frizzantina. Quale aspetto del tuo personaggio vorresti fare tuo nella vita? Un po' di cazzimma in più. Cazzimma intesa come sicurezza, piglio, a modo di essere duro, un po' più duro. Quale altro personaggio di Shakespeare vorresti interpretare? Vorrei interpretare. Di questa commedia? Ah, beh, l'Amleto, l'Amleto, sì. Qual è il ricordo più bello che ti rimarrà di questo sogno? Beh, non vorrei essere banale, ma il gruppo si è formato una bellissima comitiva all'interno di una grande famiglia che è quella di Zelig, per cui i familiari già li conoscevo, però le parentele si sono strette in questo periodo qua e questo mi fa molto piacere e me lo porterò dietro per un bel po', sicuramente. Ma il muro del pianto, per dire, ma che vita fa? E io, in qualità di muro, partecipo all'amore di questi due ragazzi, Piramo e Tisbe, due ragazzi un po' contorti, tra l'altro uno si traveste anche da donna. Ma chi se ne frega, papà, io non sono fatti i miei, perché io sono solo un maledetto muro e i muri sanno mantenere i segreti. Grazie a tutti.